Il giudice per indagini preliminari di Palermo, Annalisa Tesoriere, ha emesso un'ordinanza cautelare in carcere nei confronti del boss di Sciacca, a Cursio di Mino, 61 anni, e dell'ex assistente parlamentare Antonello Nicosia, 48 anni, sottoposti a fermo di indiziato di delitto dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo lo scorso 4 novembre con l'accusa di eseguizione mafiosa nell'operazione Passepartout. Il provvedimento è seguito dai carabinieri e del ROS sul mandato del procuratore aggiunto di Palermo Paolo Guido e dei sostituti Geri Ferrara e Francesca Dessì era stato convalidato dal GIP di Sciacca, Alberto Davilco. Trattandosi però di giudice incompetente per materia, come prevede la procedura in questi casi, entro 20 giorni la misura sarebbe decaduta se non condivisa dal giudice competente. Oggi è arrivato il provvedimento del GIP di Palermo che avalla l'impianto accusatorio nei confronti del 61enne già condannato due volte per mafia e Nicosia, ritenuto pienamente inserito nell'associazione mafiosa. L'assistente della parlamentare Giuseo Occhionero, Molisana, eletta con l'EU e ora passata a Italia Viva, non indagata nell'inchiesta, sfruttando il suo incarico sarebbe riuscito, secondo l'accusa, ad entrare nelle carceri di massima sicurezza e veicolare i messaggi dei boss all'esterno. Insieme a Diminu inoltre avrebbe gestito affari e società e persino progettato un omicidio. Il GIP invece, contrariamente a quanto deciso dal collega di Sciacca, ha sostituito la misura del carcere con i domiciliari per tre presunti fiancheggiatori. Si tratta di Paolo e Luigi Ciaccio, entrambi di 33 anni e Massimiliano Mandracchia di 46 anni. Con il deposito del provvedimento i difensori, gli avvocati Salvatore Pennica, Giochino Sbacchi, Paolo Imbornone, Antonello Palagonia e Calogioro Lanzarone potranno rivolgersi al Tribunale dell'esame per chiedere l'annullamento degli arresti.